Ehi tu Sì, proprio tu Sei alle prime armi con la pittura di miniature, vero? Ti stai divertendo, eh? Dimmi un po', hai già notato come si rovinano in fretta i pennelli? E immagino che questo ti provochi una paura viscerale verso il comprare prodotti di alta qualità perché si rovinerebbero rischiando che alla fine tu possa pensare che sia stato tutto un grande spreco di soldi lasciandoti un senso di voto con il tuo nuovo hobby? Bene, perché oggi vedremo proprio qualche consiglio per trattare al meglio i nostri pennelli e migliorare da zero le nostre skill di pittura quindi eccovi i miei 5 consigli per chi inizia a dipingere miniature Consiglio numero 1 Lava bene i pennelli dopo l'uso Partiamo dal più scontato ma anche il più importante Lo so che è la parte più noiosa e che una volta finita la vostra bella sessione di pittura non volete fare altro che dargli una sciacquata e conservare tutto ma alt, perdere due minuti in più in questa fase può portarvi davvero dei grossi vantaggi nelle sessioni successive Ma come farlo al meglio? Innanzitutto, durante la pittura possiamo servirci di due contenitori pieni d'acqua per sciacquare i pennelli da un colore o l'altro Il primo servirà per togliere il grosso del colore mentre l'altro, più pulito, sarà utile per eliminare i residui che rimangono sospesi in acqua Per quanto riguarda il post-pittura, beh, esistono diversi prodotti in commercio ma prima di passare a questi, a un novizio consiglierei semplicemente di imparare a dedicare del tempo a questa attività e il metodo più facile è quello di usare dell'acqua corrente tiepida e aggiungere al massimo una goccia di sapone liquido delicato per non rovinare le setole Consiglio numero 2 Riponi correttamente i pennelli Un'altra cosa che vedo spesso, sia tra i novizi ma anche tra gli esperti e di cui ehmè ho peccato anch'io è il fatto di lasciare i pennelli a mollo nell'acqua per troppo tempo oppure riposti in contenitori con la testa verso il basso o verso l'alto Entrambe le posizioni sarebbero poco corrette per diversi motivi A testa in su, la capillarità dell'acqua potrebbe far sì che se anche il pennello possa aprire asciutto qualche goccia d'acqua mista a colore potrebbe rimanere intrappolata nella testa e asciugandosi potrebbe deformare il pennello anche se molto alla lunga La posizione ideale per conservare un pennello infatti è quella di metterlo a testa in giù per facilitare l'eliminazione delle ultime gocce d'acqua imprigionate nelle setole Il punto è che si dovrebbe cercare di isolare queste ultime per non deformare le punte dei nostri pennelli Per ovviare a questo problema si possono usare dei cappucci in plastica oppure in alternativa riporre gli strumenti in orizzontale Di sicuro non basta un buon pennello a far di voi dei gran pittori ma sicuramente una buona punta non può che darvi una marcia in più Consiglio numero 3 Non caricare troppo il pennello I pennelli, come abbiamo visto, possono rovinarsi a causa di diversi fattori perché non vengono puliti adeguatamente per via di come vengono riposti dopo l'uso o semplicemente perché sono di bassa qualità E' vero GV? Sto guardando proprio te In ogni caso la causa più comune è quella del distanziamento delle setole Questo accade quando il colore si insinua nella parte alta della testa del pennello andando a toccare la parte in metallo Questa parte del pennello è praticamente impossibile da pulire al 100% e quindi il colore che vi rimane, asciugandosi, farà sì che col tempo la punta smetta di essere tale Perciò prevenire è meglio che curare e il metodo migliore per pulirla è quello di non sporcarla nemmeno Questo terzo consiglio è più un metodo di pittura più che altro Infatti ciò che dovremo imparare a fare fin dalle prime sessioni sarà quello di non caricare troppo il nostro pennello In linea di massima basterà non superare la metà della lunghezza delle setole e pulirle come abbiamo avuto modo di vedere Lo so che state pensando Ma come faccio a prendere abbastanza colore da una boccetta senza sporcare l'intero pennello? Anche qui sto guardando te GV e le tue boccette progettate da satana in persona Il consiglio del vostro Core 96 è quello di tenere a portata di mano un vecchio pennello da usare per questi passaggi e di trattare bene invece quelli più costosi È inevitabile che i pennelli, per quanto bene possiate tenerli, si rovinino col passare del tempo Imparate a farvene una ragione il prima possibile Ciò che potete fare è solo cercare di allontanare quanto più possibile questo avvenimento Ma quando è arrivata la loro ora, che si fa? Si buttano? Ovviamente no Abbiamo già elencato qualche metodo per riciclarli ma ne esiste anche un altro Il cosiddetto dry brush Il dry brush è una tecnica che consiste nell'utilizzo di colore senza diluizione con acqua e che permette di evidenziare rapidamente ampie zone di miniature senza stare a fare ogni dettaglio uno per uno È una tecnica molto valida se usata con criterio ma anche molto aggressiva per i nostri pennelli Il mio consiglio è quello di tenere sempre a portata di mano qualche pennello da utilizzare in casi come questo Se poi non volete rischiare di usarli sulle vostre miniature potete sempre impiegarli nella pittura degli scenici Consiglio numero 5 Usa una wet palette Infine voglio condividere con voi il sacro graal della pittura con pennello la wet palette Questo è il passo successivo che vi porterà a migliorare la qualità delle vostre sessioni in maniera più che esponenziale Esistono diverse marche che si propongono di offrirvi un prodotto già fatto e finito ma su questo canale ho realizzato un video in cui vi mostro come al solito come realizzarne una a casa vostra in maniera facile, veloce e a costo zero L'obiettivo della wet palette è quello di aumentare il periodo di conservazione dei vostri colori grazie all'umidità del supporto Ciò vi permette di sprecare meno colore e di riprendere le vostre sessioni di pittura senza perdere determinate sfumature per le quali vi siete sbattuti un sacco Una volta acquisita a familiarità con questo strumento vi assicuro che non potrete più farne a meno Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa personalissima top 5 di tips and tricks sulla pittura pennello per novizi Vi sentite già migliorati? Bene, ora siete pronti per andare a dipingere quel vostro meraviglioso esercito di miniature da soli 5.000 punti E restate sintonizzati per altri contenuti multimediali solo qui, su Core96 Il video finisce qui, ma vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto un commento ed iscrivervi al canale cliccando sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati Per qualsiasi chiarimento sentitevi liberi di scrivermi un commento a cui sarò lieto di rispondere Non dimenticate di recuperare anche gli altri video del canale e di seguirmi su Instagram e Facebook Ringrazio anche Luisa che mi ha fatto da attrice per questo video e vi lascio il suo Instagram in descrizione Detto ciò, come al solito un saluto, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video